Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rubrica The Review. Oggi recensisco un prodotto acquistato un paio di mesi fa su Amazon, il Power Bank della CoolReal. Vediamo insieme le caratteristiche. Questo carica batteria portatile ha un peso di 200 grammi. Le dimensioni sono 12,4 x 9,1 x 1,8 cm. La capacità della batteria è di 6000 mAh e ha 4 luci LED di segnalazione. Vediamo adesso il contenuto della scatola. Nella scatola troverete il caricabatterie, il cavo USB e il manuale di istruzioni. Vediamo adesso nel dettaglio il Power Bank. Grazie alle sue dimensioni piccole, questo caricabatterie risulta molto comodo da portare con sé dentro una borsa o anche in una tasca. Sulla parte davanti troviamo 4 lucine a LED che indicano la carica rimasta del Power Bank che può essere visualizzato tramite il tasto che si trova al lato. In alto troviamo una porta micro USB per ricaricare il Power Bank e due porte USB per ricaricare in contemporanea due dispositivi, una da 1A e l'altra più potente da 2A. Quanto mi riguarda sono rimasto molto soddisfatto da questo caricabatterie poiché sono riuscito a ricaricare il mio telefono due volte senza ricaricare per forza il Power Bank. La prima al 100% e la seconda all'80%. Dipende comunque dalla potenza della batteria del vostro smartphone. Unica becca forse è il cavo troppo porto che però può essere sostituito con quello con cui ricaricate i vostri dispositivi. Bene ragazzi, spero che il video vi sia stato d'aiuto. Vi lascio in descrizione il link di Amazon. Mi raccomando fatemi sapere nei commenti i vostri pareri su questo prodotto e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Music and Other. Un saluto da Music and Other.